L'utilizzo della stimolazione meccanica plantare può permetterci di procrastinare, di prolungare di diversi anni la possibilità di intervenire anche da un punto di vista terapeutico. Se pensiamo ai pazienti giovani, cioè ai Parkinson giovanili che hanno bisogno ovviamente di assumere terapia medica per molti più anni, a maggior ragione è intuitivo che capire quanto una terapia e quanto un ausilio come gondola ci possa permettere di avere una finestra, un intervallo terapeutico molto più lungo rispetto alla somministrazione farmacologica.